In Piemonte diminuisce il numero delle aziende ma aumentano le dimensioni. Questo uno dei risultati emersi dal sesto censimento generale dell'agricoltura, curato dall'ufficio regionale di censimento e dall'ISTAT. Piuttosto rilevanti le novità nel comparto agricolo, che per la regione è un settore di grande produttività. Nel 2010 il numero delle aziende è sceso del 40%, mentre la superficie agricola non è diminuita. In altre parole le proprietà si sono accorpate per ridurre le spese e ottimizzare le risorse. I terreni in media hanno un'ampiezza di 15 ettari per proprietà, il doppio rispetto alla media nazionale, anche se è una cifra ben distante dagli altri paesi europei. Hanno saputo anche fare migliori economie di scala, fare scelte imprenditoriali efficaci, anche supportate da quelli che sono gli strumenti che mette a disposizione la pubblica amministrazione con i fondi europei. Le aziende tendono inoltre a specializzarsi, migliorano la competitività sul mercato sia nelle coltivazioni che nell'allevamento di bestiame. I prodotti nei campi fruttano ogni anno 1,6 miliardi di euro, il 48% dell'intera produzione di beni agricoli del Piemonte. Il riso continua ad essere il cereale più coltivato, mentre la superficie a vite diminuisce del 65% rispetto agli ultimi 50 anni, rimanendo intensiva solo nelle Langhe, Roero e Monferrato. Rispetto al 2000, anno dell'ultimo censimento, la manodopera ha subito un calo del 30%, minore l'età media dei proprietari agricoli, che inoltre hanno un titolo di studi più alto, e minore la presenza di lavoratrici donne. In aumento però la percentuale di lavoratori extrafamiliari, novità per il comparto agricolo piemontese, che da sempre ha avuto generazioni di grandi famiglie alle redini delle aziende. I dati del censimento potranno essere così uno strumento di pianificazione futura per questo settore così importante dell'economia regionale.